Alessio mi fai vedere come lavavi il viso al mattino prima di venire qui da noi in farmacia? Quindi stai utilizzando un sapone per le mani? Un sapone per le mani Questo lo facevi solo al mattino o solo la sera? Solo al mattino Invece mi fai vedere adesso come tratti la tua pelle? Ok Uso le mie vertelle Cosa stai utilizzando adesso? Sto usando un tonico che applico sul viso Mi fai vedere come lo applichi? Sì L'isambonato il viso Dopo che hai messo il tonico cosa fai? Uso una crema Ok Per darci alcune del viso Ok Ok Come la senti la pelle dopo aver fatto questo trattamento così veloce? Più pulita e più liscia Grazie Sì Grazie a tutti.